arrivo prego accomodatevi alla carusel boutique unicoze chic, unique, magnifique sapphire shorts il pony del pop buon pomeriggio signorina Rarity che cosa? lei sa il mio nome beh certo che lo conosco cara mi piace tenermi aggiornata su tutti gli stilisti emergenti la rivista di moda equestre ha detto meraviglie sul tuo conto oh per tutte stelle se sto sognando non svegliatemi posso aiutarla signorina Shours? oh ti prego chiamami pure sapphire allora come posso aiutarti sapphire? e sono sicura che avrai sentito dire che girerò tutta equestria con il mio nuovo tour il tour di sapphire showers perciò cara dovrò essere assolutamente sensazionale ho ciò che fa per te sapphire showers preparati a vedere una delle opere più esclusive di hot couture ho usato tutte le pietre che ho trovato per realizzarlo oh è decisamente spettacolare lo prendo davvero? è certo e ne voglio altri cinque ognuno con pietre di diverso colore con i tanti? mi devo cambiare capita spesso che faccia questo effetto ai poni? oh caspita sapphire showers il poni del pop è straordinaria insomma è bellissima è bravissima ecco beh certo non può neanche lontanamente paragonarsi a te tu sei centomila volte più bella e più brava di lei Spike una signora non è mai invidiosa no certo ma non sei impazzita quando te la sei trovata davanti una signora non perde mai il crollo Spike comunque che dire sono rimasta sorpresa devo trovare altre gemme per fare tutti quei costumi ecco ci siamo provate? si Spike lì sotto che belle hanno un aspetto un aspetto così delizioso Spike ti ho promesso qualche gemma come spuntino ma dobbiamo prima raccoglierne un numero sufficiente per completare l'ordine di Sapphire ci vediamo più tardi tesorini muoviti Spike abbiamo un sacco di lavoro da fare ai vostri ordini madame Spike oggi ti sei comportato molto bene Spike per questo motivo meriti una ricompensa un piccolo regalo per te qualcosa non va Spike oh no è perfetto grazie oh oh porta il carrello presto qui ce ne sono altre tutto per me da parte di Rarity si gemme gemme pietre preziose quel bel cercatore di gemme grazie a tutti